buongiorno a tutti abbiamo ricevuto una video richiesta da parte della nostra iscritta questa volta voglio provare a farti una video domanda visto che potete avere questa opportunità ti disturbo per chiederti questo sei qualcosa in merito al bonus giovani per l'acquisto prima casa grazie gentilissimo ciao ciao buona giornata ciao olimpia allora ti spiego subito cosa prevede il bonus 36 anni e lo spieghiamo anche tutti quanti i nostri iscritti anzi voglio fare un piccolo una piccola premessa vi invito fatelo ora proprio qui sotto c'è un tasto con scritto iscriviti voglio ringraziare le prime 200 persone che si sono iscritti canale continua a crescere il bonus 36 anni prevede l'acquisto di un'abitazione prima casa la stato agevolo l'acquisto per le giovani coppie non facendo sostanzialmente pagare le imposte ci sono dei criteri da seguire la circolare numero 14 dell'ottobre del 2021 ha stabilito le persone non debbono aver compiuto 36 anni nell'anno in cui acquistano l'immobile quindi non devono aver compiuto 36 anni nel 2021 possono compagnere nel 2022 devono aver prodotto un modello isè il modello isè deve essere inferiore ai 40 mila euro c'è anche una durata al momento la durata prevista è 30 giugno 2022 all'atto dell'acquisto della casa sostanzialmente non si pagheranno le imposte di registro le imposte catastali ma si impagherà solo un'imposta fissa più o meno di 300 euro questa iniziativa è molto valida dal punto di vista economico poiché le persone appunto si trovano a risparmiare una cifra notevole in fase di acquisto pagheranno solo le spese notarili ovvero il notaio e eventualmente l'agenzia lo stato garantisce altresì i mutui per le persone under 36 fino al massimo dell'80 per cento questo cosa comporta comporta che le banche hanno creato dei prodotti apposta per le persone under 36 con mutui garantiti percentuali di intervento pari al cento per cento quindi ci sono diversi istituti di credito che già si sono mossi io ho visto dei prodotti di unicredit di cariparma che adesso si chiama credit agricole intesa san paolo bnl hanno creato proprio dei prodotti ad hoc per per le giovani coppie cosa implica implica che comunque le persone avranno comunque un istruttore bancaria ci sono alcune banche che andranno a verificare che abbiate il rapporto data reddito al 30 per cento ci sono altri istituti che andranno a verificare che magari finanziamenti pregressi siano stati pagati regolarmente ma sostanzialmente l'aspetto importante è che le giovani coppie qualora non avessero anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato avendo lo stato garantito per l'ottanta per cento vi permetterà di poter accedere a un mutuo che generalmente non si poteva accedere per le giovani coppie questo è un bel momento per comprare gli immobili poiché gli immobili in italia non hanno ancora raggiunto i livelli del ante 2008 quindi hanno ancora un prezzo basso spero che il contenuto e la risposta e la video risposta a olimpia e quindi anche per tutti voi vi sia piaciuta sia di vostro interesse vi invito a iscrivervi nuovamente al canale prossimamente parleremo dell'assegno unico parleremo dell'rdc e dei cambiamenti che ci saranno nell'rdc e anche del bo dell'isee 2022 a presto